stateci dentro io poi fate la prova e li allontano dai stateci dentro stretti 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 esatto via perfetto rapidi e stretti molto bene bravi ok via dai ok dai forza anche le ragazze non ho visto una ragazza fino adesso dai fuori 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 dai vedete lui ci riesce vedete i ritmi quello bisogna far sentire la ritmica perfetto va bene solo l'ultimo finiamo il giro poveri allontano